Lutto nel mondo della politica e dell'associazionismo provinciale. Si è spento all'età di 78 anni lecchese Enzo Bergamaschi, presidente della sezione provinciale dell'Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari. Da sempre impegnato in politica, prima nel PSIUP e poi nel PC, Bergamaschi era stato per anni segretario organizzativo della sezione lecchese del Partito Comunista, nonché regista amministrativo della festa dell'unità di Osnago. Bergamaschi aveva partecipato agli stati generali del Welfare, proponendo l'istituzione di un'agenzia speciale per la casa in città. Grazie al suo impegno, alla collaborazione con le associazioni degli inquirini, si deve ad esempio l'introduzione all'eco del canone concordato di affitto, che permette vantaggi sia ai proprietari in termini di risparmio fiscale, sia agli affittuari che beneficiano di una riduzione del canone mensile. Pur gravemente malato, Bergamaschi aveva recentemente dato vita all'Associazione Italiana dei Pazienti Affetti da Sindrome Mielodisplastica, della quale era divenuto presidente. E' scomparso Enzo Bergamaschi. Ricordiamo che con Enzo Bergamaschi, proprio un anno fa, nel corso degli stati generali del Comune di Lecco, è stato affrontato uno dei temi centrali del Welfare, vale a dire l'emergenza abitativa. Sì, intanto l'espressione di un profondo dolore anche personale per l'amicizia e anche il riconoscimento, la riconoscenza che provo verso Enzo Bergamaschi, persona di etica e intelligenza rare, devo dire. Con noi ho collaborato molto proprio sul tema della casa, fino a coprodurre un documento importantissimo che prelude la creazione di una vera e propria agenzia sociale della casa. Enzo è stato il protagonista formidabile e principale di questa operazione, condivisa con il Comune di Lecco, con altri interlocutori, ma devo dire che se non ci fosse stato lui non so se saremmo riusciti tutti a creare le condizioni di competenza per una operazione di questo genere. Io l'ho sempre riconosciuto prima e lo dico a maggior ragione adesso. Innanzitutto ho una profonda sensazione anche di perdita forte per la comunità, non solo per una cara persona, ma per la comunità perché le competenze e le capacità di Enzo sono davvero, credo, difficilmente sostituibili.